È una zona particolarmente adatta alla cocezione della vite, grazie al microclima che si è generato, che è un microclima molto ventilato e molto assolato. Qui le uve prendono il sole dall'alba al tramonto e c'è sempre un venticello, che oggi è praticamente raro una giornata senza vento, però solitamente è molto ventilato. Grazie a questo non si creano parassiti e malattie della vite. Noi abbiamo qui diversi tipi di vitigni, dal Montepulciano al Trebbiano a Cappatina, perché sono vitigni tipici ad atto.